Una giornata di festa, di incontro per conoscere la realtà Emmaus Aselonia nella bassa veronese con il suo messaggio di solidarietà e di impegno, ma anche una giornata per aiutare. A tante valenze la festa organizzata qui, in questa splendida casa tipica della zona che accoglie persone disagiate, bisognose di un tetto, una casa, un futuro. L'obiettivo principale è proprio questo, farci conoscere, far vedere, mostrare alle persone, alle famiglie che vivono nel territorio attorno a Legnago, quello che la comunità ha fatto e sta facendo per sostenere, aiutare persone in difficoltà. Può essere una bellissima giornata passata insieme alle famiglie e anche insieme ai ragazzi. Dopo cinque anni e coinvolgendo l'intera comunità, qui circa 18 persone vivono insieme, condividendo un tetto, ma anche un lavoro, come quello del recupero di oggetti dismessi e del mercatino, al lavoro nell'orto, all'apicoltura. Dopo quasi cinque anni siamo già al completo, praticamente siamo in 18 compagnoni, io li chiamo perché è una famiglia grande, la vedo sempre così, non vedo la differenza chi fa e chi sbriga. Facciamo i lavori, la giornata è divisa, i ragazzi vengono divisi in gruppi, la pulizia da casa, si esce con i camion, si sta nell'orto. Quali sono le necessità delle persone che vivono in questa casa? La necessità è di sentirsi utili, sono persone che hanno avuto la sfortuna nella vita. Non manca giorno che non riceviamo telefonate dagli responsabili dei comuni, delle ASL, per vedere se abbiamo uno spazio per ricevere una persona. Dovremmo averne molto di più per poterle ricevere tutti, siamo già al massimo. Quindi è molto importante avere perché noi non facciamo la carità, diamo la possibilità attraverso il lavoro alle persone di rifarsi una vita. L'obiettivo è che possano uscire e ritrovare lavoro, ritrovare famiglia, ritrovare un posto nella società. Poi una caratteristica che hanno le comunità Emmaus, che credo siano forse le uniche che hanno questa caratteristica, noi riceviamo sussidi dallo Stato, né dai comuni né dalle ASL, è tutto autofinanziato attraverso il mercatino. E quindi lasciamo anche un appello a venire, a vederci, a vedere quello che stiamo facendo e a vedere quante cose belle che si possono trovare nel nostro mercatino. Grazie.